Benvenuti a un'altra puntata di Priscio. Stasera facciamo giusto due chiacchiere con Carmela Curci, la presidente della Fondazione del Carnevale di Putignano. Benvenuta. Grazie a tutti. Grazie a te per aver accettato questo invito a Priscio. Com'è andata la prima sfilata? Perché da pochi giorni c'è stata. Sì, giusto domenica abbiamo fatto la nostra prima sfilata. E' andata benissimo, ho ben 20.000 presenze, quindi il paese era strapieno di gente, tutta gente colorata, allegra, che voleva divertirsi e noi siamo stati contenti di accoglierli. E io ci ero insieme a Michelangelo, che è il cameraman, a fare le interviste al centro della sfilata. Bene. Perché ci avete concesso i pass stampa, quindi eravamo accanto a quelli del TG1. Eh beh, sì. Quest'anno abbiamo avuto due interventi sul TG1 a l'ora di pranzo e poi un servizio un po' più elaborato, un po' più lungo, nel TG1 di prima serata. Ah, pensavo su Sky. Quindi insomma, no no, sempre su TG1, quindi insomma, una bella vetrina. E ho letto i primi numeri, dicevi delle 20.000 presenze, E poi, diceva Sky, 150 quintali di carta utilizzata. Eh beh, sì, perché i carri sono fatti di carta pesta, quindi carta e colla. Poi questi vengono colorati, vengono trattati, ma alla base dei carri c'è la carta. Poi ci sono anche un po' di chili di coriandoli, che sono oramai in disuso purtroppo. Ma ce ne sono anche di quelli, sì. Ed è stata molto molto divertente. Ma la curiosità è, la presidente durante la sfilata che fa? Cioè, balla, partecipa? Assolutamente sì, perché anche se io avevo già visto in anteprima i carri, vederli in movimento, con le coreografie, con la musica, con le luci, è tutto un altro spettacolo. Quindi io non mi sono mossa dalla prima fila della mia postazione, perché volevo ammirare in prima persona quello che stava succedendo. Poi magari la seconda ne vedrò uno sì, uno no, ma la prima devo godermela tutta, assolutamente. Quindi non sei una delle ballerine. Assolutamente no! Oddio, anche se c'è stato un momento in cui sia io che la sindaca ci siamo immersi nel balletto di uno dei carri e abbiamo ballato insieme a loro. Ma è stata veramente una cosa molto molto breve. E questa è la prima edizione? Sì. Per te. Ma è la 630esima. E vorrei capire come hanno fatto, cioè, quali sono le testimonianze che appunto testimoniano che è la 630esima? Ok. Allora, il nostro carnevale possiamo testimoniare che ha così tanti anni perché ha una origine religiosa. Il nostro carnevale nasce nel 1393 quando i cavalieri di Malta andarono a Monopoli, presero le reliquie di Santo Stefano e lo riportarono nell'entroterra per proteggerlo dalle incursioni degli arabi. Sì, degli arabi comunque... Suggeriscono. Dei? Dei saracenis. Meno male che c'è il gobbo che mi aiuta. Quindi in quell'occasione, durante questa traslazione delle reliquie, ci fu un corteo che cominciò ad aggregarsi a questo corteo religioso e cominciò ad essere allegro, fiero e contento perché speravano che la benedizione, la benevolenza del santo potesse ricadere anche su di loro. Quindi da Monopoli a Putignano c'era questo corteo festoso che accompagnava le reliquie di Santo Stefano e quindi si creò la prima signata. Il primo carnevale. Il primo carnevale. Ecco perché noi sappiamo che nasce in quella data. Perché esiste un documento in cui c'è la traslazione delle reliquie. Dicevamo, è la tua prima edizione. Quanto lavoro c'è dietro un'edizione del carnevale? Perché io sono solo andato a ritirare i pass domenica pomeriggio e ho visto la barahonda, cioè positivamente però la barahonda di gente che lavorava lì. Allora io ho cominciato a lavorare dei primi di ottobre. Sì. E quindi abbiamo avuto dei tempi molto ristretti perché effettivamente è una macchina molto complessa e complicata. Sembra semplice ma non lo è. Così come non lo è organizzarlo non è facile neanche per i carristi che hanno bisogno di almeno 4-5 mesi per realizzare le loro opere. Quindi se sono in ritardo, se non ce la fanno, perché magari i tempi sono molto stretti, sono costretti a volte a lavorare anche il sabato, le domeniche, le feste comandate per poter arrivare poi al momento della sfilata pronti con le loro realizzazioni. Quindi ce n'è tanto veramente di lavoro anche se può sembrare una cosa semplice e banale. Non lo è. Anche perché coinvolge tante situazioni. I carristi, i gruppi mascherati, le associazioni, le scuole, le aziende. È veramente un'attività che riguarda tutta la comunità a 360 gradi. Quanta gente lavora al Carnevale di Putignano? Secondo me tutta a Putignano. In un modo o nell'altro. È una partecipazione collettiva. Sì, perché direttamente o indirettamente tutti vi partecipano. Chi per esempio con i costumi, chi con le coreografie, chi con chi fornisce i colori, chi magari ha un'attività food e quindi fornisce poi i track che vengono utilizzati e poi durante le sfilate. Veramente coinvolge tutti. Sono curioso. Io ho letto che verrà Amadeus nella serata finale. Ma c'è stata una telefonata con Amadeus? Sono molto curioso di capire. Io sinceramente non l'ho ancora sentito. Però sì, c'è all'interno del nostro gruppo direttivo una persona che si occupa dei contatti con gli artisti che ha ricevuto questa chiamata dal suo agente chiedendo se fossimo interessati alla sua partecipazione. Ovviamente non potevamo chiedere di meglio visto che comunque viene da noi subito dopo il successo perché non può essere altrimenti di Sanremo. Quindi porta con sé appunto il successo che avrà Sanremo. Poi tutte le sere ci sono migliaia e migliaia di italiani che lo seguono su Rai 1 quindi siamo stati contentissimi di accettare la sua proposta. Ho incontrato gente domenica pomeriggio da Napoli, dalle Marche. Sì. Cioè, io onestamente non me lo aspetto ma questa è la classica situazione in cui hai una cosa a pochissimi chilometri da casa e non gli dai la giusta importanza. Sì, è vero. Ma da Napoli, dalle Marche... Allora, la prima sfilata di solito è quella dedicata ai putignanesi e ai turisti, diciamo, nelle vicinanze. Quindi parlando di vicinanze non parlo ovviamente solo della provincia ma parlo della regione o comunque delle regioni meridionali. Domenica prossima aspettiamo anche altre persone sempre di questa zona ma aspettiamo anche gente che viene dal nord perché essendo di domenica magari fanno il ponte e riescono a stare anche qualche giorno ma approfittano magari per visitare Alberobello, Castellana insieme ovviamente a Putignano. Quindi comunque il Carnevale è sempre più un evento nazionale. Eh, io che ho visto la... forse si è capito che domenica io che ho visto la sfilata vorrei... ho percepito nell'aria una leggera polemica ma io voglio spezzare una lancia. Il Carnevale di Putignano è uno spettacolo impressionante e il fatto che vengano da Napoli dalla Sicilia, dalle Marche ma nelle prossime domeniche secondo me arriveranno da molto fuori giustifica al 100% il fatto che si paghi un biglietto. Assolutamente sì. Questa polemica serpeggia un po' da tanti anni non è una questione di cifra ma nel momento stesso in cui si è cominciato a pagare si è cominciato a criticare questa ipotesi. Però è anche vero che se noi consideriamo che noi offriamo uno spettacolo che dura circa 12 ore dalle 9 di mattina fino alle 21, le 22 fino a mezzanotte c'è qualcosa da fare a Putignano c'è qualcosa da ammirare da seguire da partecipare abbiamo show cooking artisti di strada mostre la sfilata abbiamo i concerti che quest'anno sono compresi nel prezzo e per cui quei 18-15 euro sinceramente risultano veramente irrisori rispetto all'offerta che si dà. è come entrare in un grande luna park sì parcheggi custoditi sì tornello 1, tornello 2 sì quindi c'è è una polemica è una polemica abbastanza sterile nel senso che oggi per avere uno spettacolo per ammirare uno spettacolo anche molto più breve che può essere di un'oretta, due a volte siamo costretti a volte siamo disposti a pagare anche cifre più alte il carnevale ho detto è un spettacolo veramente molto molto lungo per tutte le età è trasversale va bene per i bambini per gli adulti per le famiglie per i giovani domenica abbiamo Ernia come concerto quindi capite bene che 15 euro per pagare e vedere un concerto di Ernia mi ha sfido chiunque a trovarlo da qualche altra parte eh infatti ma la cosa più difficile che è capitata in questi mesi di avvicinamento al tuo primo carnevale qual è stata? la cosa più difficile è stata conciliare le passioni delle persone che sono coinvolte dicevo prima che il carnevale coinvolge tutti a Potignano in vari modi in varie maniere alcuni lo fanno eh vivono il carnevale non solo come passione ma proprio come attività lavorativa per cui a volte ci sono delle situazioni che bisogna conciliare bisogna raccordare eh dovute a caratteri a interessi particolari per cui a volte serve veramente una persona tranquilla che abbia tanta pazienza per metterli d'accordo quella è stata la cosa più difficile cercare di mettere d'accordo persone gruppi che ovviamente avendo degli interessi avendo delle idee proprie a volte difficilmente riuscivano a conciliarsi con gli altri però a parte quello la fatica non mi ha mai spaventato abbiamo lavorato tanto siamo andati avanti quando poi invece iniziano a esserci problemi di tipo personale di relazioni quelle sono i momenti in cui io ho avuto più difficoltà e di cui mi rammarico maggiormente ok perché comunque nella vita non fai la presidente della fondazione assolutamente no assolutamente no io ovviamente ho un'azienda mi occupo di risorse umane mi occupo di ambiente di sicurezza nella mia azienda quindi ho prestato temporalmente per un tempo determinato il mio il mio lavoro il mio tempo è la mia passione perché sinceramente se un presidente oltre a delle capacità non ha anche la passione diventa tutto più difficile certo quindi nonostante il mio lavoro che comunque non ho lasciato in questi mesi tornare a casa la sera molto più tardi per poter dedicare del tempo anche al carnevale non è semplice e non è da tutti se non è una cosa che ti piace non si può fare il carnevale che inizia il 26 dicembre cioè uno pensa vabbè le due settimane a cavallo del martedì grasso invece inizia il 26 dicembre poi ci sono tutta la serie dei giovedì di avvicinamento e poi c'è anche il carnevale d'estate per non farsi mancare niente sì infatti il nostro carnevale è il più lungo d'Europa nasce inizia il 26 dicembre quando ancora gli italiani stanno lì a tavola a tavola con la tombola a mangiare il panettone noi già iniziamo a pensare al carnevale quindi c'è il momento delle propaggini che è proprio quel momento che ricorda la nascita del carnevale cioè in quello il momento in cui quei contadini che seguirono le reliquie di santo Stefano si ripropongono per raccontare per schernire per criticare per ridicolizzare il potere chi è al potere quindi si parte con il 26 dicembre poi in base a quando è la festa di Pasqua quando cade la Pasqua c'è un numero c'è un numero variabile di giovedì i giovedì assolutamente tipici di Putignano non c'è nessun altro carnevale che ha questo tipo di tradizione di rito sono dei momenti in cui delle categorie sociali le vedove e i vedovi i sacerdoti le monache le donne sposate i pazzi fino ad arrivare a giovedì grasso che è il giovedì degli uomini sposati altresi detti cornuti all'interno dei quali appunto queste categorie sociali vengono evidenziate ricordate mascherate infatti durante questi giovedì quasi sempre c'è un corteo di giovani o di putignanesi o di turisti che si travestono secondo la categoria di quel giovedì e fanno festa ballano cantano e si divertono all'interno del paese delle strade del paese ma io non sapevo fosse solo di putignano questa cosa di giovedì sì sì assolutamente sì così come è solo di putignano la festa dell'orso una festa in cui praticamente il cosiddetto oracolo meteorologico secondo cui a seconda del comportamento dell'orso il 2 di febbraio si capisce se la primavera sarà più o meno lunga se arriverà presto o tardi l'estate e questa è assolutamente una cosa putignanese così come anche l'accademia delle corna questa questione del taglio delle corna e della nomina del cornuto dell'anno altre cose tipiche oppure c'è il funerale del il funerale di carnevale l'estrema unzione del carnevale ovviamente prima una e poi l'altra così come anche negli ultimi anni è nato un altro rito che è il cosiddetto uconzolo la consolazione che viene fatta dopo la la sepoltura fatta la famiglia che ha avuto la perdita no? anche noi il 17 in quell'occasione ci sarà questa consolazione ai putignanesi per aver visto morire il proprio carnevale hai parlato dell'orso di questa cosa del meteo ma io immagino ci sia una danza del sole ogni sabato pre-sfilata o il lunedì prima del martedì grasso cioè come vivete questo sempre con l'app del meteo praticamente sì in questi giorni stiamo andando avanti così anche perché le previsioni purtroppo per domenica prossima non sono ottimali ma è troppo presto è troppo presto quindi insomma aspettiamo e preghiamo che il tempo sia clemente non tanto per noi quanto per i turisti che ovviamente hanno già acquistato i biglietti e anche per tutti coloro che lavorano nel carnevale perché giustamente tanto lavoro in tutti questi mesi se poi c'è una giornata di cattivo tempo è ovvio che poi tutto il lavoro viene perso viene sprecato ho visto la sfilata anche la domenica dopo il martedì grasso ma è la prima volta no? no non è la prima volta è già successo qualche anno fa si è cominciato perché proprio una situazione di tempo capitava di farlo svrittare dopo è cominciata così una sfilata non si poteva fare per motivi meteorologici e si chiese una grazia così si può dire al vescovo per poter festeggiare oltre il mercoledì durante la quaresima durante la quaresima da quel momento un po' si è laicizzata la situazione per cui ormai non dico che è quasi sempre presente la sfilata nel periodo della quaresima ma spesso e volentieri succede hai avuto modo di vedere un po' di costumi in giro per Putignani assolutamente sì durante la sfilata tantissimi ho visto che ci sono tantissimi turisti famiglie o coppie di giovani che vanno a comprarsi questi costumi a noleggiare questi costumi quasi sempre in abbinamento per esempio l'altro giorno ho visto una ragazza vestita da Cleopatra e il ragazzo vestito da Romano mi piacciono molto questi abbinamenti fatti apposta no? così come c'è magari Mascia e Orso la ragazza vestita da Mascia e il ragazzo i turisti tanti sono vestiti a maschera i putignanesi purtroppo nel tempo hanno perso questa tradizione forse perché si vergognano un po' non lo so ma durante la sfilata anche i putignanesi si travestono ma per il resto se non riguarda la sfilata in sé per sé pochissimi sono quelli che usano travestirsi oramai ho capito che tu non ti vesti ma se potessi scegliere da che cosa ti vestiresti ancora non è detto che non mi travesti quindi è sorpresa non si sa però mi piacerebbe insomma in quanto presidente della fondazione dare un segno rispetto a questa cosa però al momento non abbiamo ancora deciso anche perché probabilmente saremo sia io che la sindaca in abbinamento potreste fare la coppia anche voi ma non sappiamo ancora non l'abbiamo ancora deciso quindi assolutamente top secret che cosa ti metti in priscio che cosa mi metto in priscio mi piace del carnevale mi piace il movimento il fatto che tutto tutta putignano è coinvolta mi piace per esempio il fatto che le strade siano chiuse un'assurdità voglio dire no? dice ma che cosa sì sì ma mi piace questo fatto che ci siano delle aree dedicate al carnevale che ci siano delle restrizioni perché evidentemente questa cosa del carnevale deve essere curata preparata protetta mi piace la gente che arriva che parcheggia le auto le code incredibile ma a me vedere una coda da Turi che viene a Putignano mi piace ci metti in priscio la coda delle macchie sì sì perché vuol dire che c'è tanta gente che apprezza questa cosa e quindi è disposta anche a fare la coda pur di arrivare sono dei prici strani capisco però mi piace questa cosa e ho visto tantissimi bambini come se fossero 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 veramente al Luna Park sì perché per loro è un Luna Park libero non è a pagamento quindi non devono andare sulla giostra appositamente per poi lasciare il gettone tutto quello che c'è per loro è bellissimo poi il fatto stesso che dopo la sfilata i carri siano posizionati lungo il percorso e fermi possono farsi le foto adesso c'è questa cosa della moda di selfie tutti possono approfittare di queste opere d'arte per portarsi a casa un ricordo per farsi delle foto per fare delle foto con gli amici io penso che veramente sia il paese dei balocchi non solo per i bambini ma anche per i giovani e anche per gli adulti non lo dicono ma secondo me anche per gli adulti ma forse soprattutto la scusa devo portare il bambino al carnevale forse mi vesto anch'io è vero questo video esce sicuramente prima delle future sfilate ah bene vorresti fare un invito un invito venite a Putignano sempre e comunque a meno che non c'è bufera o diluvio venite perché comunque anche se non sarà bellissimo nel tempo come è stato domenica scorsa comunque delle attrazioni ci saranno delle cose da vedere ci saranno da vivere abbiamo anche gli show cooking abbiamo una piazza la cosiddetta piazza Farinella in cui abbiamo una rievocazione di come la tradizione contadina ha elaborato la cucina tipica pugliese abbiamo dicevo gli show cooking abbiamo una serie di track food per assaggiare tante prelibatezze della nostra cucina quindi indipendentemente se c'è la sfilata o meno venite comunque anche se non vi abbronzerete ma è comunque bella Putignano per poter tornare bambini sì sì per tornare bambini perché comunque bambini lo siamo sempre in fondo in fondo quindi magari quella è l'occasione per tirare fuori questo nostro essere piccoli per ricordarsi e viverlo una volta di più che emozione ti ha dato la prima sfilata voi non ci crederete ma io mi sono emozionata nel vero senso della parola ci crediamo mi veniva veramente da piangere e quasi quasi mi nascondevo ma che cavolo insomma a 50 anni piangere no per me le cose belle per cui hai dato tanta tanta fatica tanto lavoro tanto sacrificio e poi vedere che queste cose si realizzano è una soddisfazione immensa la tua passione trapila tutta quindi ma tanto ci sarò anche nelle prossime sfilate quindi spero di incontrarti ci incontreremo grazie per essere stata a Pris grazie è stato un piacere anche per me un pricio un pricio per me oltre a vedere le macchine anche venire qui assolutamente grazie